Bentornati a Tracce di Sport, oggi siamo a Napoli davanti allo stadio Collana costruito nel quartiere Vomero alla fine degli anni 20 e diventato un centro polisportivo negli anni 60 grazie all'organizzazione a Napoli dei giochi del Mediterraneo. In questa lunga storia un momento cruciale per lo stadio e la sua relazione con la città è stata la seconda guerra mondiale, ma ripercorriamo queste tappe grazie alla testimonianza di Nando Pellegrino, dirigente sportivo. Nasce come un campo littorio, nel 1942 quando giocava il Napoli calcio questo impianto fu requisito e le SS lo trasformarono in un campo di concentramento. La ribellione del popolo napoletano liberò questo campo, il calcio Napoli si è sposto qui, il pubblico traboccava dappertutto e l'allora Concetto Lobello, un arbitro storico di grande personalità, anzi prima di cominciare la partita chiamò il pubblico, lo fece scendere a bordo campo con la promessa che niente sarebbe successo e gli avrebbe fatto vedere la partita da lì. Chiaramente il popolo napoletano quando viene coinvolto in questo modo non successe niente. Oggi nello stadio Collana ci sono un campo di atletica, un campo da calcio utilizzato anche per il rugby, una piscina, una pista da pattinaggio, palestra in cui si pratica scherma, pesistica, ginnastica artistica e arti marziali. Qualche anno fa è crollata la palestra dedicata al basket e al volley, ma ciò nonostante qui si può fare esperienza di polisportività, dal cui valore si parla Claudio Nasti, ex judoca e attuale dirigente sportivo. E' proprio questa disponibilità di interagire dove ci sono più discipline, secondo me si esce in un modo più, anche l'atletagonista esce in modo più completo. A volte è bello solo magari fare una passeggiata e vedere un giro di pattinaggio, va bene? Mi metto là una mezz'oretta di musica e mi guardo dei volteggi, va bene? Già quello di per sé fa bene. Viene una famiglia formata, una famiglia tipo formata da madre, padre e due bambini e la mamma magari sa che può fare ginnastica a corpo libero, il papà può fare una corsetta per togliere un po' di pancette magari per aiutarsi a stare bene, mentre i bambini possono diventarsi tra attrezzistica, judo, karate. Siamo entrati in questo centro polisportivo al sabato mattina molto presto, quando questo luogo di solito pieno era vuoto. Questo vi raccontano Luigi Ottani e Andrea Calderone. Siamo entrati in questo centro. Quindi attenzione di fondare di gas, voglio energia. Odio il pigiama e vedo rosso E se la terra mi chiama non posso restare chiuso Fra quattro mura ho premura di vivere E perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità Sto fermo un giro, non passo dal via Io testo non gioco e vado via Fuori dal vaso, fuori di testa Ho sempre un piede sul motore